2018 c'è questa situazione completamente di wildness, no? C'è dei vini pazzeschi con dei profumi incredibili. Te ora quando assaggi il colore assaggi dei frutti pazzeschi rotondi rossi pieni e pieni di profumi. Cioè te assaggi e dici ma questo c'è un potenziale proprio da grande grande vino. Sul Testamatta c'è questa energia bellissima del Sangiovese, fresco, forte, preciso, intenso, è proprio la bellezza del Sangiovese.